Ciao a tutti ragazzi! Il Natale è alle porte! Siete pronti? Oggi cantiamo Rudolph the Red-Nosed Reindeer! Siete pronti? Siete pronti? Se vi è piaciuto questo video ricordatevi di riguardarlo, così imparate bene le parole e le mosse. Mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere più una puntata di Sing with Gabe. Ciao! Ciao!